Allora, Ivo, mi alzi il volume? Ok, ragazzi, buongiorno. Beh, sì, va bene, dai. Allora, come si conviene facciamo partire il padrone di casa, quindi ringraziamo Simone Franzo a nome dell'Università che rappresenta e siamo qua grazie a loro che ci hanno ospitato. Buongiorno a tutti, un grazie doveroso invece subito ricambio al PNLUG che ci ha scelto nuovamente come location del suo evento, del Linux Day. Io sono Simone, lavoro per consorzio universitario, vi porto subito gli auguri, il buongiorno del nostro presidente CDA, del nostro direttore, che si felicitano di essere virtualmente qui, non sono potuti essere qui, ma di fatto di poter ospitare nella nostra sede questo evento importante. Un buongiorno a voi, ai vostri professori, grazie per essere qui anche a voi. Siamo in questa sede e siamo felici di essere qui per dei motivi particolari, la sede dell'Università Pordenone. Il nostro lavoro di fatto è quello di ospitare l'Università Pordenone, ospitiamo l'Università di Udine con corsi come scienze e tecnologie multimediali, comunicazione multimediale, banche e finanze, infermieristica, l'ISIA, Roma Design, tanti ragazzi so sono dell'artistico, eventualmente dopo se volete avere due informazioni in più sul corso di design siamo qui. Ospitiamo l'Università di Trieste con una magistrale, ospitiamo la fondazione TS Kennedy con dei corsi centrati sull'ICT, quindi diciamo caschiamo pennello oggi, ma di fatto oggi il tema del Linux Day, temi anzi del Linux Day, sono machine learning, intelligenza artificiale, big data, percorsi, tematiche che vengono affrontate quotidianamente in questa sede con vari corsi, scienze e tecnologie multimediali, Michi poi ce ne parlerà diffusamente, ma anche i corsi di tecnico superiore della fondazione Kennedy affrontano queste tematiche, quindi caschiamo pennello, siamo credo nella sede giusta, quindi siamo molto felici anche per questo motivo di contribuire a ospitare questi eventi, dar modo di diffondere conoscenza, dar modo di fare esperienza con software come quelli liberi, open source, quindi che sia una giornata di festa per tutti, che sia una giornata di conoscenza, di esperienza, di formazione per tutti quanti. Ringrazio nuovamente, a nome di tutto il consorzio universitario di essere qui così numerosi, ringrazio nuovamente tantissimo il PNLUG per averci scelto. Grazie, una buonissima giornata, un buon lavoro. Grazie Simone, passo la palla alla professoressa Cinzia Turchetti in rappresentanza del Kennedy. Non posso che associarmi ai ringraziamenti per PNLUG per averci invitato, per aver organizzato questa iniziativa, per dare i ragazzi di mettere il naso fuori del loro istituto, visto che sono in quinta, noi abbiamo portato tre quinte, sono sicuramente molto vicini al momento in cui dovranno lanciarsi verso il futuro, e questa è una rappresentazione di ciò che possono andare a fare, quindi siamo molto contenti di essere qua. Questo è un polo molto importante per la città di Pordenone, per i ragazzi, e hanno modo di trovare sia le sedi dell'università qui vicino, ma anche appunto quella dell'LTS Kennedy, e in sostanza diciamo che siamo nel posto giusto per cominciare a vedere cosa si può fare con i dati. Sì, ecco, sono stato appassionato. E buon lavoro a tutti. Allora, mi viene da pensare, vediamo cosa farà l'artistico adesso. Presento il dirigente Enrico Quattrin, professore Enrico Quattrin. Allora, anche io ringrazio dell'invito, una bellissima occasione per uscire da scuola. Aggiungerei solo una riflessione veloce per non perdere tempo. In quanto artistico abbiamo la responsabilità di produrre bellezza. Oggi il sottotraccia di molte delle lezioni che seguirete c'entra con la libertà. E la libertà di condividere la bellezza penso che ci riguardi in prima persona. Quindi concentratevi e buon lavoro. Loris, non temporeggiare. Abbiamo Loris Tissino, del Matiusi. Buongiorno a tutti. Buongiorno, io sono doppiamente felice di questa iniziativa, sia perché insegno al Matiusi, mi hanno portato i nostri studenti del corso Sistemi Informativi e Zendali, sia perché sono un socio del gruppo utenti Linux di Pordenone da quando è stato fondato e il fatto di vedere così tanta gente a un'iniziativa che promuove il software libero non può che farmi doppiamente piacere. Grazie. Allora, buongiorno a tutti. Mi avete già sentito. Io sono Alem Modolo, sono il presidente dell'associazione, ma il presidente è solo il vertice, senza il fondo non si farebbe niente e siamo in tantissimi ad allestire qua, quindi ringrazio prima di tutto tutti i soci. Avete visto un socio professore, un socio alla regia, ne abbiamo sparsi ovunque, ci vedrete ovunque, quindi intanto ringrazio tutti quanti. E quando ogni tanto mi chiedono, ma che cos'è Pienelug, cosa serve, cosa fate, io mi diverto e dico facciamo volontariato informatico e cominciano a rotare gli occhi come volontariato informatico. Il volontariato si fa presso gli ospedali, si fa in tante altre cose, in informatica si fa volontariato. E se mi permettete, io oggi sono in ferie, alcuni di noi sono in ferie, altri il sabato non lavorano, ma sono qui. Stiamo facendo volontariato oggi per le scuole. Stiamo cercando di divulgare quella che è la nostra cultura del software libero, del software libero e dell'open source. Ci sono quattro libertà, io ho la spilletta sempre qua perché crediamo tantissimo, parte tutto da lì. Le quattro libertà potrebbero essere riassunte in una parola, condivisione, che secondo me dovrebbe essere una delle parole della società. La società deve condividere, altrimenti ognuno sarebbe per conto suo, saremmo tutti erimi. E invece no, invece siamo sempre in gruppo, ci muoviamo in gruppo. Già la parola social, ok? Condividiamo ogni secondo, qualsiasi roba. Cosa dicono le quattro libertà informatiche? Sono estremamente semplici e anche ridondanti perché ripetono più o meno sempre quello. Dicono, potete eseguire il programma per qualsiasi scopo. E voi direte, va bene, qual è la novità? La novità è che se leggete, ad esempio, si chiama EULA, End of User License, licenza dell'utilizzatore finale di Windows o di Apple, voi non potete eseguire il sistema per qualsiasi scopo. Ci sono dei limiti imposti dall'azienda produttrice. Sui sistemi New Linux non c'è alcun limite. E' ovvio che se voi li utilizzate per motivi non leciti, furto di dati, furti bancari, stalking, poi ne rispondete di fronte alla legge. Questo è evidente. Però non avete limiti di utilizzo. Voi vi accendete il PC e decidete, PC o il telefonino Android è Linux. Il kernel che fa funzionare Android è Linux. Forse non lo sapevate. Lo sapevate, benissimo. Poi la seconda libertà è molto simile alla prima. Lo utilizzate, lo potete studiare e modificarlo. E voi direte, e qual è la novità? Che non si può fare nei software proprietari. Studiarlo non vuol dire capire come funziona. Studiarlo vuol dire aprire il codice. Chi ha la capacità di farlo, apre il codice e dice, qua c'è un bug, lo miglioro e lo ricondivido. E questa è la seconda libertà. Nei software proprietari non potete farlo. La terza. Una volta che l'ho migliorato, cosa faccio? Lo tengo per me? No, lo ricondivido. Quindi lo redistribuisco in modo da aiutare gli altri. Ho trovato un bug, lo risolvo e avanti. La quarta e ultima, vi accorgerete che sono tutte molto simili, però poi ci sono pacchi di documentazione su questo, è la possibilità di, dopo aver migliorato il programma, distribuirlo, regalarlo, distribuirlo, ricondividerlo, apportare miglioramenti e distribuire i vostri miglioramenti. Fate parte di una comunità. Queste sono le quattro libertà. Quindi, cosa fa PNLUG? Cerca di diffondere questa cultura. La cultura della condivisione distribuita su queste quattro libertà. Come lo facciamo? Nell'arco di un anno abbiamo fondamentalmente quattro appuntamenti fissi. Partiamo da oggi, Linux Day, che è la terza o la quarta? Il quarto sabato di ottobre. Ok, ogni quarto sabato di ottobre, ogni ultimo sabato, perché se c'è il quinto è l'ultimo, quindi ogni ultimo sabato di ottobre noi facciamo manifestazione Linux Day. Poi ci trovate alla Linux Arena, noi la chiamiamo così, non è nient'altro che uno stand abbastanza grande nel padiglione 5 della fiera del Radiomatore. Radiomatore 1 ad aprile, terza di aprile mi pare, e Radiomatore 2 a novembre, terza di novembre. Quindi, da qui noi stiamo già pensando cosa dobbiamo fare fra un mese alla Linux Arena a Radiomatore 2 in fiera. Quarto appuntamento, ogni martedì sera, in sede al polo tecnologico di Roveredo, per andare a Roveredo, Daviano, e quel bel edificio rosso, molto appariscente, in parte al ex villaggio del Fanciullo, Opera Sacra Famiglia. Ogni martedì sera, dalle 19.30 alle 22.30, noi siamo lì, per chi vuole partecipare. I contatti pnlug.it, trovate biglietti da visita, trovate tutto, non serve visare, venite lì, facciamo due chiacchiere, e poi da lì cosa nasce cosa, oppure visti e piaciuti, insomma. Ah, scusami, dovevo fare la mia oggi. Ecco, la quinta, è perché è troppo nuova, ancora non mi è entrata, ma è troppo nuova, però è grazie alla Design Week, che poi abbiamo un sacco di relatori oggi. Allora, io sulla Design Week è il quinto appuntamento a febbraio, però lascio la parola poi a Giovanni, che vi spiegherà che è il quinto appuntamento fisso. E concludo dicendo che queste libertà e queste attività non sono... Qualcuno, quando vuole screditarci o prendersi giro, schernirci, divertirsi alle nostre spalle, ma ormai ci siamo abituati, ci considera i nerd da salotto. Se voi andate a vedere le ultime direttive dell'Agid, Agenzia per l'Italia Digitale, che sembra una cosa un po' così, ma poi di fatto lì casca a tutti i cittadini quello che loro decidono, fra le decisioni c'è, prima di tutto, la condivisione e l'utilizzo del software già prodotto. Cosa sto dicendo? Sto dicendo che noi lavoriamo, paghiamo le tasse, le mettiamo allo Stato italiano che decide cosa fare delle nostre tasse. E l'Agid dice, abbiamo qualcosa come 3.600, 3.800 comuni in Italia. Se un comune ha una cosa carina, perché il comune B deve ricreare la ruota del comune A perché non lo sapeva? Perché il comune C deve ricreare la ruota del comune B e del comune A che non lo sapeva? Quindi c'è un portale disponibile dove i comuni, le pubbliche amministrazioni, gli ospedali, le scuole, i software che fanno possibilmente in salsa open source, li ricondividono. E ci sono due cose fondamentali, il risparmio economico e il miglioramento continuo, perché se lavori sempre sullo stesso codice, poi pian pianino ci sono sviluppi. Quindi spero di aver concretizzato il fatto che sì, ci divertiamo, ma poi queste cose toccano noi cittadini tutto il giorno. Vi ringrazio, spero di essere stato lunghissimo. Passo la palla a Giovanni che vi presenta la giornata. Grazie. Benissimo, chiudiamo questa parte di presentazione con due indicazioni. Io sono Giovanni Longo, sono responsabile comunicazione della nostra associazione. Tutto quello che vedete sui social o comunque qualsiasi diffusione pubblicitaria dei nostri eventi, ci sono soprattutto io dietro. E se avete bisogno di informazioni, gli insegnanti, se hanno bisogno di indicazioni per i loro lievi, potete fare riferimento a me. Sono qua disponibile in zona Atrio tutta la giornata. Vi spiego brevemente la giornata e come è organizzata. Allora, Linux Day è il principale evento sul software libero che c'è in Italia. Siamo alla 19esima edizione e l'evento è nato dall'Italian News Society, che è un'associazione a livello nazionale che coordina questo evento che l'ha ideato e lo coordina ogni anno. È l'evento più importante che parla di Linux, che è il principale prodotto, la principale tecnologia open source al mondo. È una tecnologia per la quale contribuiscono tantissime aziende, i colossi tecnologici di tutto il mondo, ma non solo, anche grandi aziende dell'automotive. Prima fra tutte, mi piace ricordare che adesso Microsoft, che anni fa ci dichiarava un cancro o ci equiparava al comunismo, e adesso invece Microsoft ha sposato Linux, anzi promuove l'amore verso Linux ed è una delle più grandi aziende che contribuiscono ogni anno, versando mezzo milione di dollari all'anno alla Linux Foundation ed è una open source software house. Non vuol dire che fa solo open source, ma ha un grandissimo contributo, ha un grande dipartimento che si occupa di open source. Quindi che cosa succede? Perché è una casa che ci dichiarava e ci considerava un cancro e è diventata adesso amante di questo modello? Perché gli anni, l'evoluzione tecnologica è velocissima e abbiamo, noi stessi, ogni giorno nella società, affrontiamo una complessità sempre maggiore di strumenti, di servizi, molto facili da utilizzare, in interfacce sono facili, ma la struttura sotto è molto complessa. Per cui abbiamo modifiche molto veloci nella società, nel mondo del lavoro e le aziende non hanno la capacità, come succedeva tempo fa, di poter affrontare tutto da dentro. Hanno bisogno di alleanze, hanno bisogno di condividere i soldi per lo sviluppo. Quindi tantissime aziende, Facebook, Google, Twitter, tutti i colossi tecnologici hanno bisogno di lavorare insieme e, ad esempio, è appunto l'esempio di Linux, del kernel Linux, il cuore della tecnologia dei nostri sistemi operativi, ma abbiamo citato anche Android e tanti altri sistemi, viene sviluppato da tante aziende insieme. Allora oggi il senso di questo evento è, diciamo, imparare delle competenze digitali, a meno sapere che esistono. Molti di voi a scuola magari già le stanno apprendendo. Nel mondo del lavoro le chiamiamo le hard skill. Se qualcuno di voi ha iniziato magari a fare per la prima volta un curriculum o sta già pensando di fare qualche lavoro e quindi di preparare un curriculum, sa che deve mettere in evidenza le competenze tecniche, quelle che sono necessarie per eseguire il lavoro. Una cosa che però mi preme ricordare e sottolineare è che il modello di sviluppo condiviso, che è il cuore, diciamo, del successo dell'open source nel mondo, è tutto dovuto alla gestione della comunità, dello sviluppare insieme. Quindi chiunque abbracci questo tipo di cultura impara ad enfatizzare le proprie soft skill. Le soft skill sono le capacità, diciamo, relazionali, comunicative, l'abilità che avete di lavorare in gruppo. Queste abilità sono importantissime nel mondo del lavoro. È vero che dobbiamo competere, dobbiamo sgomitare per trovarci un posto, però all'interno delle aziende, nel mondo del lavoro, è importante lavorare bene insieme, creare un clima positivo. Qui dovete mettere in gioco le vostre capacità personali, non tutte, è una cosa di carattere, non tutte ce le hanno, però abbracciare questa cultura significa comunque avvicinarsi, capire meglio l'importanza del collaborare, di fare le cose insieme. Allora vi invito a scoprire non solo software e competenze digitali, ma anche la cultura che ci sta dietro. Andiamo adesso a vedere bene come si svolgerà la giornata. Allora, la mattina è il momento, diciamo, con maggiori argomenti e maggiori temi. Ci sono quattro percorsi tematici. Uno avviene in quest'aula qua, nel percorso principale, sulle tecnologie del futuro, quindi parleremo del tema principale dell'evento. Ci sono altre tre aule, per altri tre percorsi. Due aule sono la S8, qui subito di fronte all'uscita, e più in giù nel corridoio c'è la S6. Abbiamo i percorsi qui all'S8, Free Software e Free Culture e Easy. Allora abbiamo gli argomenti, diciamo, forse un po' più aperti al grande pubblico, un po' più semplici per chi magari si avvicina la prima volta, e comunque non meno interessanti. Poi nell'aula S6, quella più giù in fondo nel corridoio, abbiamo il percorso Arte, Design e Multimedia, quindi parleremo di computer graphic, di grafica vettoriale, e di montaggio video. Potete dare un'occhiata comunque ai programmi che sono disponibili qui nell'atrio. Poi abbiamo il percorso tematico 4, è in aula S14, è salite a queste scale, la prima aula che vedete sulla destra, e lì c'è il percorso un po' più avanzato per chi magari già si occupa un po' di informatica o comunque è già un po' schillato, diciamo. La pausa caffè la mattina è prevista per le 11, dura 20 minuti, forse qualcuno di voi ha già visto dove si trova il bar, il bar, andate giù per questo corridoio dove c'è la macchinetta, girata a sinistra, e vedete qua fuori subito gli ombrelloni, c'è il bar. Ragazzi, ancora un attimo per favore. La pausa pranzo è prevista per l'una, è un'ora, dura fino alle 2, il bar è sempre aperto, anche il pomeriggio sarà aperto, quindi chi vuole fermarsi non ci sono problemi, ovviamente per il pranzo. Il pomeriggio è dedicato soprattutto a workshop, quindi andremo, se avete con voi portatili, avete con voi la vostra attrezzatura, potete direttamente provare, assieme agli insegnanti, a usare, a utilizzare, a fare degli esercizi, a utilizzare i software. Abbiamo tre percorsi tematici, uno, sempre qui in aula magna, e due, abbiamo al piano terra, aula S8 e S6. Abbiamo un workshop che dura tutto il pomeriggio su Blender, quindi computer graphic 3D, poi abbiamo, che sarà qui, in aula magna, e abbiamo in S8 un workshop sul deployment con Docker, quindi andiamo un po' più sul tecnico, e invece abbiamo un terzo percorso di hacking e making, che si svolgerà nell'aula S6. Allora, ultimissima cosa, e poi vi lascio, iniziamo con l'evento effettivo, e tutti gli eventi che avverranno in questa aula, verranno registrati, come diceva Alain prima, e saranno pubblicati sul nostro canale YouTube. Quindi non è necessario, anche se vi interessa il percorso che state tutti quanti qua, che è il tema principale, e vi invito anche un po' a dividervi, insomma, a dividere uniformemente per tutte le aule, scoprire anche gli altri percorsi. Tutto quello che sarà detto in quest'aula qua, sul percorso municipale, comunque sarà disponibile su YouTube. Ok? Benissimo. Adesso possiamo iniziare ufficialmente con l'evento. Buon divertimento. Chi deve andare in aula S14 può salire da quella porta. E ci siete già di fronte, giusto?